Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial Oggi voglio farvi vedere come effettuare il recupero della password di AliceMail Andiamo su Google, clicchiamo AliceMail, entriamo Allora, non vi ricordate più qual è la vostra password Quindi, clicchiamo qui in recupera username e password Inserite l'username Mettete il pallino su alice.it E cliccate su recupera password Ora vi chiede, conferma i caratteri dell'immagine? Se non leggete bene questa immagine, fate carica una nuova immagine Finchè non ce n'è una che riuscite a leggere correttamente Io qui leggo B, E, Y, D, D Avanti La prima volta che avete impostato la password Avete inserito una domanda segreta Inserita la risposta, andate avanti E qui potete scegliere la nuova password Una volta inserita la nuova password e ripetuta per la seconda volta Andate avanti e avete completato la procedura di recupero password Grazie a tutti Spero che questo video sia utile Lasciate un like e condividetelo Iscrivetevi al canale Ciao a tutti da Maceric Grazie a tutti